A differenza di Marilda, che si trapianta da metà ottobre a tutto novembre, il Merry Crispy si esalta nei trapianti che vanno da settembre a metà ottobre. Le caratteristiche principali di Merry Crispy sono la costolatura netta, il calibro che si mantiene sempre sui 100 grammi ed è considerato un prodotto premium, la Long Shift Life e la buona qualità dei frutti.